Amici da casa, so che non vedi l'ora, vado a chiarire subito il punto. Michele Santoro chiede 10 euro per il suo nuovo programma, lei non glieli dà o glieli dà volentieri ma vuole la ricevuta, se no poi travaglio la denuncia. Insomma, il 73% dichiara di versare volentieri i suoi soldi a Michele Santoro, ma una condizione che almeno lui ci paghi le tasse.